Vagedu zu irren und zu treumen Schiller Ecco cosa ho letto in un vecchio manoscritto italiano. Verso la metà del 1500 vivevano a Ferrara, che allora prosperava sotto il dominio dei magnifici duchi, protettori delle arti e della poesia, due giovani di nome Fabio e Muzio. Avevano la stessa età ed erano parenti stretti e quasi inseparabili. Un'amicizia sincera li legava fin dalla prima infanzia. La somiglianza della loro condizione sociale aveva rafforzato questo legame. Tutti e due facevano parte di antiche famiglie ed erano tutti e due indipendenti e senza legami. Anche i gusti e le inclinazioni loro erano simili. Muzio amava la musica, Fabio la pittura. Erano l'orgoglio di Ferrara, che li considerava il miglior ornamento della corte, della società e della città. Fisicamente però non si assomigliavano, anche se entrambi si segnalavano per la loro bellezza elegante e giovanile. Fabio era più alto, bianco di pelle e chiaro di capelli, con gli occhi azzurri. Muzio, invece, aveva la pelle olivastra, i capelli neri e i suoi occhi marrone e scuro. Non avevano il chiarore gioioso, né le labbra e il sorriso attraente che si notavano in Fabio. Le sue sopracciglia folte incombevano su palpebre strette, mentre le sopracciglia dorate di Fabio si stendevano come semicerchi sottili sulla fronte liscia e pulita. Anche nella conversazione Muzio era meno vivace. Nonostante questo, i due amici piacevano nella stessa misura alle dame, perché erano dei veri modelli di galanteria e generosità cavalleresche. Nello stesso tempo viveva a Ferrara una fanciulla di nome Valeria. Era considerata fra le più belle della città, anche se la si vedeva molto di rado, dato che conduceva una vita appartata e usciva di casa solo per andare in chiesa o fare una passeggiata nei giorni di festa. Viveva con la madre, una vedova di famiglia nobile, ma non ricca, che non aveva altri figli. Valeria suscitava in chiunque incontrasse un moto di involontaria ammirazione, seguito da presso da un tenero rispetto, tanto era modesta nel suo comportamento e tanto sembrava lei stessa, poco cosciente della potenza del suo fascino. Alcuni, a dire il vero, la trovavano un po' pallida. I suoi occhi, quasi sempre abbassati, avevano un'espressione timida, persino timorosa. Le sue labbra sorridevano raramente ed un sorriso appena percettibile. Pochi avevano sentito il suono della sua voce, ma si diceva che fosse bellissima e che, chiusa in camera sua, la mattina presto, quando tutta la città era ancora addormentata, le piacesse cantare antiche arie al suono del liuto che lei stessa suonava. Nonostante il pallore del volto, Valeria risplendeva di salute e perfino i vecchi, scorgendola, pensavano «Oh, come sarà felice quel giovane per il quale questo fiore virginale, ancora racchiuso nei suoi petali, sboccerà completamente!». Fabio e Muzio videro Valeria per la prima volta durante una sfarzosa festa popolare voluta dal duca di Ferrara, Ercole, figlio della famosa Lucrezia Borgia, in onore di alti dignitari arrivati da Parigi, invitati dalla duchessa, figlia del re di Francia, Luigi XII. Valeria era seduta vicino alla madre, al centro di una elegante tribuna eretta su disegno del palladio, sulla piazza principale di Ferrara, per le dame più importanti della città. Tutti e due, sia Fabio che Muzio, se ne innamorarono appassionatamente quello stesso giorno e dato che non si nascondevano niente l'uno all'altro, ognuno venne presto a sapere che cosa accadeva nel cuore del compagno. Decisero che avrebbero provato ambedue a conquistare il favore di Valeria e se lei avesse scelto uno di loro, l'altro si sarebbe sottomesso a questa decisione senza protestare. Qualche settimana più tardi, grazie alla buona fama di cui godevano a buon diritto, riuscirono ad entrare nella casa della vedova, una casa difficilmente accessibile. La vedova permise loro di farle visita. Da quel momento poterono vedere e parlare con Valeria quasi quotidianamente e di giorno in giorno la fiamma, cesa nel cuore dei due giovani, bruciò sempre più forte. Valeria però non mostrava di preferire nessuno dei due, anche sarà evidente che la loro presenza le faceva piacere. Con Muzio faceva della musica, ma parlava soprattutto con Fabio. Con lui si mostrava meno timida. Alla fine i due decisero di farsi rivelare definitivamente il loro destino e mandarono a Valeria una lettera in cui le chiedevano di pronunciarsi e di dire a chi era disposta a concedere la sua mano. Valeria mostrò questa lettera a sua madre dicendo che era pronta a restare nubile, ma se la madre pensava che fosse giunto il momento di sposarsi, allora avrebbe sposato quello che lei le avrebbe scelto. La rispettabile vedova versò alcune lacrime al pensiero di separarsi dall'amata figlia, ma non c'era motivo di respingere i due pretendenti. Li riteneva tutti e due degni allo stesso modo della mano di sua figlia, ma dato che preferiva segretamente Fabio e sospettava che piacesse di più anche a Valeria, fece il nome di Fabio. Il giorno dopo Fabio venne a sapere che la fortuna era stata dalla sua parte. Quanto a Muzio, non gli rimaneva che mantenere la sua parola e sottomettersi. E così fece. Ma essere testimone del trionfo dell'amico, del rivale, era al di sopra delle sue forze. Vendette immediatamente la maggior parte delle sue proprietà e dopo aver raccolto alcune migliaia di ducati, partì per un lungo viaggio in Oriente. Quando si congedò da Fabio, gli disse che non sarebbe tornato prima di essersi convinto che le ultime tracce della passione fossero scomparse dal suo cuore. Fu molto doloroso per Fabio separarsi dall'amico dell'infanzia e della giovinezza, ma l'attesa gioiosa di una felicità prossima riuscì a soffocare in lui qualsiasi altra sensazione e si abbandonò all'estasi dell'amore ricambiato. Ben presto Fabio sposò Valeria e solo allora conobbe tutto il valore del tesoro che la sorte gli aveva concesso. Aveva una magnifica villa circondata da un giardino ombroso poco distante da Ferrara. Vi si trasferì con la moglie e la madre di lei. Per loro cominciò un'epoca luminosa. La vita coniugale rivelò in una luce nuova e attraente tutte le doti di Valeria. Fabio diventò un bravo pittore, non un semplice dilettante, ma un maestro. La madre di Valeria era felice e ringraziava Dio vedendo la coppia felice. Quattro anni passarono in un baleno, come un bel sogno. Una sola cosa mancava ai due giovani sposi. L'unico dolore era quello di non avere figli, ma la speranza non li abbandonava. Verso la fine del quarto anno furono colpiti da un vero grande dolore. La madre di Valeria morì dopo una breve malattia. Valeria pianse molto. A lungo non riuscì ad abituarsi alla sua perdita, ma passò un altro anno e la vita riprese il suo corso abituale. Ed ecco che una bella sera d'estate, senza aver avvertito nessuno, Muzio tornò a Ferrara. Per tutti quei cinque anni passati dalla sua partenza, nessuno aveva più saputo niente di lui. Tutte le voci sul suo conto erano cessate, come se fosse scomparso dalla faccia della terra. Quando Fabio incontrò il suo amico in una strada di Ferrara, poco mancò chi gridasse, prima di spavento, poi di gioia, e lo invitò subito nella sua villa. Lì, nel giardino, c'era un padiglione appartato. Fabio propose all'amico di venire ad abitare in quel padiglione. Muzio accettò volentieri e quello stesso giorno vi si trasferì insieme al suo servo, un malese muto, ma non sordo, e anzi, a giudicare dalla vivacità dello sguardo, un uomo molto perspicace. Gli avevano infatti tagliato la lingua. Muzio portò con sé decine di bauli pieni di ogni tipo di oggetti preziosi raccolti durante i lunghi viaggi. Valeria si rallegrò del ritorno di Muzio e lui la salutò con fare amichevole ed allegro, ma calmo. Era evidente che egli aveva mantenuto la parola data a Fabio. Nel corso della giornata egli riuscì a sistemarsi nel padiglione. Con l'aiuto del malese tirò fuori tutti gli oggetti rari che aveva portato. Tappeti, tessuti di seta, abiti di velluto e broccato. Servile fece vedere ai suoi ospiti alcuni trucchi che gli avevano insegnato i bremini indiani. Così, ad esempio, nascostosi dapprima dietro un paravento, era apparso all'improvviso seduto in aria con le gambe incrociate e appoggiandosi appena con la punta delle mani su una canna di bambù messa verticalmente. Il che stupino un poco Fabio e spaventò alquanto Valeria. Non sarà diventato un negromante, le capitò di pensare, quando poi, suonando un piccolo flauto, Muzio cominciò a chiamare da un cestino chiuso dei serpenti addomesticati. Quando questi, muovendo le lingue, mostrarono le loro teste piccole e piatte da sotto il tessuto variopinto, Valeria ne fu terrorizzata e pregò subito Muzio di nascondere quei rettili odiosi. Dopo cena, Muzio offria ai suoi amici un vino di Shiraz da una bottiglia rotonda dal collo lungo. Il liquido, incredibilmente profumato e denso, color oro con riflessi verdastri, versato in minuscole tazze di Giada, scintillava misteriosamente. Il sapore non assomigliava a quello dei vini europei. Era molto dolce e molto speziato e bevuto lentamente a piccoli sorsi, risvegliava in tutte le membra una piacevole sensazione di sonnolenza. Muzione fece bere a Fabio e a Valeria una tazzina e ne beve lui stesso. Curvatosi sulla tazzina di Valeria, sussurrò qualche parola e agitò le dita. Lei se ne avvide, ma dato che in genere, nei gesti di Muzio e in tutto il suo comportamento, c'era qualcosa di stravagante e insolito, pensò soltanto si sarà forse convertito a qualche nuova religione in India oppure questi sono i costumi in quei paesi. Poi, dopo un breve silenzio, gli chiese se durante il viaggio avesse continuato ad occuparsi di musica. Per risposta, Muzio ordinò al malese di portargli il suo violino indiano. Questo assomigliava ai nostri violini, ma invece di quattro corde ne aveva tre. La parte superiore era ricoperta da una pelle di serpente azzurrina e il sottile archetto di canna aveva la forma di un semicerchio e sulla sua estremità brillava un diamante appuntito. Muzio suonò prima alcune tristi canzoni, a suo dire popolari, strane e addirittura selvagge per l'orecchio italiano. La sonorità delle corde metalliche era debole e lamentosa. Ma quando Muzio attaccò l'ultima canzone, questo suono improvvisamente si rafforzò, vibrò sonoro e forte, una melodia appassionata sgorgava dai movimenti ampi dell'archetto e si propagava ondulando sinuosamente simile al serpente, la cui pelle ricopriva la parte superiore dello strumento. Un tale fuoco, una tale gioia triunfante, brillavano e bruciavano tanto in quella melodia che Fabio e Valeria si sentirono stringere al cuore e spuntare le lacrime agli occhi. e Muzio, con la testa abbassata, premuta sul violino, con le guance pallide, con le sopracciglia contratte in una sola linea, sembrava ancora più assorto e solenne e il diamante sulla punta dell'archetto, muovendosi, mandava baglioli di fuoco, come se si fosse infiammato anche lui per questa divina melodia. Quando Muzio finì, estringendo ancora forte il violino fra il mento e la spalla, lasciò cadere la mano che teneva all'archetto, Fabio esclamò «Che cos'è? Cosa ci hai suonato?» Valeria non disse neppure una parola, ma tutto il suo essere sembrava ripetere la domanda del marito. Muzio posò il violino sul tavolo, scosse leggermente i capelli e rispose con un sorriso gentile «Questa melodia, questo canto l'ho sentito una volta nell'isola di Silon. Là, fra la gente, è conosciuto come il canto dell'amore felice, dell'amore appagato. Suonano ancora?» mormorò Fabio. «No, questo canto non si può ripetere», rispose Muzio. «E poi è già tardi. La signora Valeria ha bisogno di riposo e anche io. Sono stanco». Durante tutto quel giorno Muzio si era rivolto a Valeria in modo semplice e rispettoso, da vecchio amico, ma andandose nelle strinse la mano molto forte, premendo con le dita sul suo palmo e guardandola così fissamente in volto che lei, pur non alzando le palpebre, sentì quello sguardo sulle sue guance improvvisamente infiammate. Non disse niente a Muzio, ma ritirò la mano e quando lui se ne fu andato, guardò la porta dalla quale era uscito. Si ricordò come anche negli anni passati aveva avuto timore di lui e in quel momento fu presa dal dubbio. Muzio tornò nel suo padiglione e gli sposi si ritirarono nella loro camera da letto. Valeria non si addormentò subito. Nelle sue vene serpeggiava una leggera inquietudine e nella sua testa sarà un lieve turbamento. A causa di quel vino strano, così pensava, ma forse anche per i racconti di Muzio, per come aveva suonato il violino. Prima dell'alba finalmente si addormentò e fece un sogno insolito. Le sembrava di entrare in una stanza ampia dal soffitto basso. Una stanza così non l'aveva mai vista in vita sua. Tutte le pareti sono ricoperte di piccole mattonelle di maiolica azzurra con filigrane d'oro, sottili colonne di alabastro scolpito, sostengono la volta di marmo. Queste volte queste colonne sembrano traslucide. Una luce pallida, rosata, penetra in tutta la stanza, rischiarando ogni oggetto in modo misterioso e uniforme. Cuscini di broccato coprono uno stretto tappeto proprio nel mezzo del pavimento, lucido come uno specchio. Agli angoli alcuni grandi incensieri, a forma di animali mostruosi, emanano un fumo impalpabile. Non ci sono finestre. La porta, nascosta da una cortina di velluto, nereggia muta nella cavità di una parete. E improvvisamente questa cortina viavemente scivola via, si scosta ed entra Muzio. Si inchina, apre le braccia, ride. Le sue braccia forti stringono il corpo di Valeria. Le sue labbra aride la bruciano tutta. essa cade supina sui cuscini. Gemendo di terrore, dopo lunghi sforzi, Valeria infine si svegliò. Senza capire dove si trovava e cosa le stesse succedendo, si sedette sul letto. Si guardò intorno. Tutto il suo corpo era scosso da un fremito. Fabio era lì, sdraiato accanto a lei. Dormiva, ma il suo viso, alla luce della luna piena che brillava dalla finestra, era pallido come quello di un morto. Più triste di quello di un morto. Valeria svegliò il marito e non appena egli la vide, cosa ti succede? esclamò. Ho fatto un sogno terribile, sussurrò, ancora tutta tremante. Ma in quel momento, dalla parte del padiglione, arrivarono dei suoni intensi ed entrambi, Fabio e Valeria, riconobbero la melodia che aveva suonato per loro Muzio e aveva chiamato il canto dell'amore appagato, dell'amore trionfante. Fabio, sconcertato, guardò Valeria. Lei, chiuse gli occhi, girò la testa e tutti e due, trattenendo il fiato, ascoltarono il canto fino alla fine. Quando si spense l'ultimo suono, la luna si nascose dietro una nuvola e la stanza piombò nel buio. Gli sposi appoggiarono la testa sui cuscini senza dire una parola e nessuno di loro si accorse quando l'altro si addormentò. Il giorno dopo Muzio venne a colazione. Sembrava contento e salutò allegramente Valeria. Lei gli rispose imbarazzata. Lo guardò di sfuggita ed ebbe paura di quel viso contento e allegro di quegli occhi penetranti e curiosi. Muzio voleva ricominciare a raccontare, ma Fabio lo interruppe alla prima parola. Non riusciva a dormire nel letto nuovo. Mia moglie e Dio abbiamo sentito come suonavi la canzone di ieri. Ah, sì, avete sentito rispose Muzio. Sì, è vero, l'ho suonata, ma prima ho dormito e ho fatto un sogno meraviglioso. Valeria si fece attenta. Che sogno? domandò Fabio. Ho sognato, rispose Muzio senza distogliere gli occhi da Valeria, di entrare in un'ampia camera con una volta ornata secondo lo stile orientale. Colonne scolpite sostenevano la volta, le pareti erano coperte da mattonelle di maiolica e anche se non c'erano né finestre né candele, tutta la stanza era illuminata da una luce rosata che sembrava scaturire da una pietra traslucida. Agli angoli fumavano degli incensiari cinesi, sul pavimento erano sparsi dei cuscini di broccato su uno stretto tappeto. Entrai da una porta nascosta da una cortina e da un'altra porta proprio di fronte ne apparve una donna che un tempo avevo amato e mi apparve così bella che il mio vecchio amore mi avvolse come una fiamma. Muzio tacque ma il suo silenzio era pieno di significato. Valeria sedeva immobile ma impallidiva lentamente e il suo respiro diventava più profondo. Allora continuò Muzio mi svegliai e suonai quella canzone. Ma chi era quella donna? disse Fabio. Chi era? La moglie di un indiano. L'avevo incontrata nella città di Delhi. Ora non è più a questo mondo. È morta. E il marito? chiese Fabio senza sapere neppure lui perché facesse questa domanda. Anche il marito dicono è morto. Li ho persi di vista ben presto tutti e due. è strano osserva Fabio anche mia moglie questa notte ha fatto questo sogno insolito. Muzio guardò attentamente Valeria che non mi ha raccontato aggiunse Fabio. Ma in quel momento Valeria si alzò e lasciò la stanza. Subito dopo la colazione anche Muzio uscì dicendo che doveva andare a Ferrara per affari e che non sarebbe tornato prima di sera. Alcune settimane prima del ritorno di Muzio Fabio aveva cominciato a fare il ritratto di sua moglie rappresentandola con gli attributi di Santa Cecilia. Aveva fatto grandi progressi nella sua arte. Il cerebre Luini allievo di Leonardo da Vinci era venuto a trovarla a Ferrara. Lo aveva aiutato con i suoi consigli e gli aveva trasmesso anche i precetti del suo grande maestro. Il ritratto era quasi pronto. restava da perfezionare il volto con qualche ritocco e Fabio poteva a ragione essere orgoglioso della sua opera. Partito Muzio per Ferrara egli si dresse nel suo studio dove di solito Valeria lo aspettava ma non ve la trovò. La chiamò ma lei non rispose. Un'inquietudine inspiegabile prese Fabio. Cominciò a cercarla. In casa non c'era. Fabio corse in giardino e là in uno dei viali più lontani vide Valeria. Era seduta su una panchina con la testa abbassata sul petto le brazze incrociate sulle ginocchia e dietro di lei spiccava sul verde scuro di un cipresso un satiro di marmo con il viso deformato da un sorriso cattivo e le sue labbra puntite erano appoggiate su un flauto. Valeria fu visibilmente contenta dell'arrivo del marito e alle sue domande allarmate rispose che le faceva un po' di male la testa ma che non era niente e che era pronta ad andare a posare. Fabio la portò nello studio la fece sedere prese il pennello ma con suo grande disappunto non riuscì a finire il volto così come avrebbe desiderato e non perché questo era pallido e sembrava stanco no ma quel giorno non ritrovava l'espressione pura santa che gli era tanto piaciuta e che gli aveva ispirato l'idea di rappresentare Valeria nell'immagine di Santa Cecilia alla fine gettò il pennello disse alla moglie che non era in vena e che anche lei avrebbe fatto bene a riposarsi dato che non aveva un buon aspetto e mise il cavalletto con il quadro rivolto verso la parete Valeria fu d'accordo con lui che le avrebbe fatto bene riposare e dopo aver ripetuto che le faceva male la testa andò nella camera da letto Fabio rimase nello studio sentiva una strana confusione che non riusciva a spiegarsi il soggiorno di Muzio sotto lo stesso tetto soggiorno che lui stesso Fabio aveva sollecitato tanto prontamente lo infastidiva e non perché fosse geloso come era possibile essere geloso di Valeria ma nel suo amico non riconosceva il compagno di un tempo tutto quello che di estraneo sconosciuto nuovo Muzio aveva portato con sé dai paesi lontani e che sembrava essersi insinuato nella sua carne e nel suo sangue tutti quei giochi di magia quei canti quelle strane bevande quel malese muto persino il profumo aromatico che emanava dagli abiti di Muzio dai suoi capelli dal suo respiro tutto ispirava a Fabio un sentimento simile alla diffidenza alla paura perfino e perché quel malese mentre serviva a tavola guardava con un'insistenza così spiacevole proprio lui Fabio si sarebbe potuto addirittura pensare che capiva l'italiano Muzio aveva raccontato come questo malese perdendo la lingua avesse compiuto un grande sacrificio e in cambio avesse ricevuto un grande potere quale potere e come aveva potuto acquistarlo a prezzo della lingua era tutto molto strano incomprensibile Fabio andò nella camera da letto della moglie era distesa sul letto vestita ma non dormiva al rumore dei suoi passi trasalì poi si rallegrò della sua venuta come prima in giardino Fabio sedette vicino al letto prese la mano di Valeria e dopo un attimo di silenzio chiese quale sogno strano l'avesse spaventata quella notte era simile al sogno che aveva raccontato Muzio Valeria arrossì e rispose precipitosamente oh no no ho sognato una specie di mostro che voleva dilaniarmi un mostro sotto l'aspetto umano chiese Fabio no una belva una belva e Valeria si girò e nascose tra i cuscini il volto in fiamme Fabio trattenne per qualche tempo ancora la mano della moglie in silenzio l'avvicinò alle labbra e si allontanò i due sposi non passarono allegramente quella giornata sembrava che qualcosa di tenebroso incombesse su di loro ma cosa fosse non lo sapevano avevano bisogno di stare insieme come se li milacciassero un pericolo e non sapevano cosa dirsi l'un l'altro Fabio provò a mettersi a lavorare al ritratto a leggere l'ariosto il cui poema pubblicato poco tempo prima a Ferrara era già famoso in tutta Italia ma non riusciva a far niente a tarda sera proprio all'ora di cena tornò Muzio sembrava tranquillo e soddisfatto ma raccontò poco per lo più chiedeva notizie a Fabio dei vecchi amici comuni della campagna militare tedesca dell'imperatore Carlo parlava di voler andare a Roma per vedere il nuovo papa offrì di nuovo a Valeria il vino di Shiraz e risposta al suo rifiuto mormorò com'è fra sé e sé ora non è più necessario tornato in camera da letto con sua moglie Fabio si addormentò presto e svegliatosi un'ora dopo dovette constatare che nessuno divideva il letto con lui Valeria non era con lui velocemente si alzò e in quello stesso istante vide sua moglie in veste da notte che entrava in camera dal giardino la luna splendeva chiara anche se poco prima c'era stata una leggera pioggerella con gli occhi chiusi con un'espressione di misterioso terrore Valeria si avvicinò al letto tastando con le braccia tese in avanti si coricò in fretta e in silenzio Fabio le fece una domanda ma lei non rispose niente sembrava che dormisse la toccò e sentì sulla sua veste sui suoi capelli gocce di pioggia e sulle piante dei piedi nudi della sabbia allora balzò in piedi e corse nel giardino attraverso la porta socchiusa la luna volgeva ogni oggetto con una luce chiara e accecante Fabio si guardò intorno e vide sulla sabbia di un viottolo le impronte di due persone una era di piedi nudi e le impronte portavano a un chiosco di gelsomini che si trovava un po' in disparte fra i padiglioni e la casa si fermò perplesso ed ecco che improvvisamente risuonarono di nuovo le note di quella canzone che egli aveva sentito la notte prima Fabio sussultò corse al padiglione Muzio era in piedi in mezzo alla stanza e suonava il violino Fabio si lanciò verso di lui è stato in giardino sei uscito il tuo vestito è bagnato di pioggia no non so mi sembra di non essere uscito rispose Muzio parlando con delle pause come se fosse colpito dall'arrivo di Fabio e dalla sua agitazione Fabio lo afferrò per un braccio e perché suoni di nuovo questa melodia hai fatto lo stesso sogno Muzio guardò Fabio con lo stesso stupore e rimase in silenzio ma dunque rispondi come un tondo scudo sta la luna come un rettile scintilla il fiume l'amico è sveglio il nemico dorme lo sperviero ghermisce la gallina aiuto cantile una Muzio a mezza voce come in un delirio Fabio indietreggiò di un paio di passi fissò lo sguardo su Muzio rimase pensieroso per un attimo e tornò a casa in camera da letto con la testecchina sulle spalle con le braccia abbandonate senza forze Valeria dormiva di un sonno pesante non fu facile svegliarla ma non appena lei lo vide gli si gettò al collo l'abbracciò con gussamente tutto il suo corpo era scosso da tremiti che ti succede mia cara che ti succede ripeteva Fabio cercando di calmarla ma lei continuava a stringersi al suo petto ah che sogni spaventosi sussurlava stringendosi a lui con il volto Fabio voleva chiederle qualcosa ma lei non faceva che tremare il primo riflesso del mattino cominciava a rosseggiare sui vetri delle finestre quando finalmente lei si addormentò tra le sue brazza il giorno dopo Muzio scomparve fin dal mattino e Valeria disse al marito che voleva andare in un monastero di vicino dove abitava il suo padre spirituale un vecchio monaco molto saggio nel quale aveva una fiducia illimitata alle domande di Fabio lei rispose che voleva alleviare con la confessione la propria anima oppressa dalle impressioni insolite degli ultimi giorni guardando il volto smagrito di Valeria sentendo la sua voce spenta Fabio approvò la sua decisione il venerando padre Lorenzo avrebbe potuto darle un buon consiglio dissipare i suoi dubbi Valeria partì per il monastero sotto la scorta di quattro uomini mentre Fabio rimasto a casa in attesa del ritorno della moglie andò vagando per il giardino si chiedeva insistentemente che cosa le stesse accadendo percorso da un continuo terrore rabbia e dolore a causa di sospetti indefiniti più di una volta entrò nel padiglione ma Muzio non era tornato e il malese scrutava Fabio come una statua con la testa servilmente inclinata ma così almeno sembrava Fabio con un sorriso ironico molto ben nascosto sul volto di bronzo intanto Valeria in preda allo spavento più che alla vergogna aveva confessato tutto al padre spirituale il confessore l'ascoltò attentamente la benedisse le rimise il peccato involontario e dentro di sé pensò magia sortilegi demoniaci non si può tollerare si accompagnò Valeria alla villa con il pretesto di calmarla e tranquillizzarla completamente vedendo il confessore Fabio si allarmò parecchio ma il monaco che aveva molta esperienza aveva già deciso come comportarsi rimasto solo con Fabio naturalmente senza tradire il segreto della confessione consigliò comunque di allontanare da casa appena possibile il suo ospite che con i suoi racconti con i suoi canti con tutto il suo comportamento sconvolgeva l'immaginazione di Valeria inoltre secondo il vecchio Muzio anche prima se lo ricordava non era stato assolutamente fermo nella fede e dopo aver abitato così a lungo in paesi privi della luce del cristianesimo poteva aver portato il germe di falsi insegnamenti poteva essere stato iniziato ai segreti della magia quindi per quanto legittimi fossero i diritti di una vecchia anziana la prudenza e la ragione indicavano la necessità di un distacco Fabio fu completamente d'accordo con il venerabile monaco quanto a Valeria il suo viso si illuminò quando il marito le comunicò il consiglio del confessore e accompagnato dagli auguri calorosi dei due sposi e carico di ricchi doni per il suo convento e per i suoi poveri padre Lorenzo prese la strada del ritorno Fabio era deciso a spiegarsi con Muzio subito dopo cena ma il suo strano ospite non si presentò quella sera allora Fabio decise di rimandare quella conversazione all'indomani e i due sposi raggiunsero la loro camera da letto Valeria si addormentò presto Fabio invece non riusciva a prendere sonno nel silenzio della notte tutto quello che aveva visto che aveva sentito gli si presentava con maggiore vivacità si faceva con sempre maggiore insistenza domande alle quali come prima non trovava risposta Muzio era veramente diventato uno stregone e aveva forse avverenato Valeria Valeria era ammalata ma di quale male mentre con il mento appoggiato su una mano trattenendo il respiro affannato si abbandonava a queste dolorose riflessioni la luna si alzò di nuovo nel cielo sereno e insieme ai suoi raggi attraverso i vetri semitrasparenti dalla parte del padiglione Fabio sentì o credette di sentire una brezza simile a una corrente leggera e profumata poi si udì un mormorio insistente e ossessivo e nello stesso istante si accorse che Valeria cominciava a muoversi piano piano Fabio sussultò la guardò lei si stava alzando mettendo a terra prima un piede poi l'altro e come una sonnambula con gli occhi spenti e senza vita fissi davanti a sé con le braccia tese in avanti si avviò verso la porta del giardino Fabio si lanciò immediatamente verso l'altra porta della camera e fatto di corsa il giro della casa chiuse la porta che dava sul giardino fece appena in tempo a prendere in mano il chiavistello che sentì qualcuno che tentava di aprire la porta dall'interno faceva forza contro la porta ancora ancora e poi si sentirono dei lamenti febbrili eppure Muzio non è ancora tornato dalla città pensò Fabio e si precipitò verso il padiglione ma cosa vide verso di lui per il viale tutto inondato dallo splendore dei rangi della luna c'era Muzio camminava anche lui come un sonnambulo anche lui con le braccia tese in avanti e gli occhi senza vita spalancati Fabio e gli corse incontro ma egli senza accorgersi di lui avanzava muovendo un passo dietro l'altro e il suo volto immobile rideva alla luce della luna come quello del malese Fabio voleva chiamarlo per nome ma in quel momento egli udì dietro di sé sbattere una finestra nella casa si girò era proprio così la finestra della camera da letto si era spalancata e con un piede sollevato sul davanzale pronta a saltare stava Valeria le sue braccia sembravano cercare Muzio era tutta protesa verso di lui una rabbia indicibile una furia improvvisa si scatenò nel petto di Fabio un maledetto stregone urlò furiosamente e afferrato Muzio per la gola con una mano cercò a tastoni il pugnale che aveva alla cintura e gli infilò la lama fino all'impugnatura in un fianco Muzio lanciò un grido lancinante e premendo il palmo della mano sulla ferita corse vacillando a rifugiarsi nel padiglione ma nello stesso momento in cui Fabio lo colpiva anche Valeria aveva lanciato lo stesso grido lancinante era caduta a terra come se fosse stata lei stessa colpita Fabio si lanciò verso di lei la sollevò la mise sul letto le parlò rimase a lungo distesa immobile ma finalmente aprì gli occhi fece un sospiro profondo spezzato e felice come qualcuno che è appena sfuggito ad una morte imminente e vedendo il suo marito si strinse al suo petto cingendogli il collo con le braccia tu sei tu sei tu balbettava a poco a poco le sue mani si rilassarono la testa ricadde all'indietro e sbigliando con un sorriso beato grazie a Dio tutto è finito ma come sono stanca cadde in un sonno profondo ma naturale Fabio si mise a sedere vicino al letto e senza distogliere lo sguardo dal viso pallido e smagrito ma già l'asserenato della moglie cominciò a riflettere su quello che era accaduto e su quello che avrebbe potuto fare adesso come comportarsi se egli aveva ucciso Muzio ricordando come era entrata profondamente la lama del pugnale non poteva avere dubbi se egli aveva ucciso Muzio non lo si poteva nascondere bisognava informare il duca i giudici ma come spiegare come raccontare una storia così incomprensibile lui Fabio aveva ucciso nella propria casa un suo parente il suo migliore amico gli avrebbero chiesto perché per quale motivo ma se Muzio non era morto Fabio a non potere stare più a lungo senza sapere e assicuratosi che Valeria dormisse si alzò con cautela dalla poltrona e si diresse verso il padiglione qui tutto era silenzioso solo una finestra era illuminata con il cuore che gli veniva meno aprì la porta esterna sulla porta erano rimasti segni di dita insanguinate e sulla sabbia del viale aveva visto delle gocce nerastre delle gocce di sangue attraversò la prima stanza buia e si fermò sulla soglia paralizzato dallo stupore in mezzo alla stanza su un tappeto persiano con un cuscino di broccato sotto la testa coperto da un ampio scialle rosso con ricami neri giaceva Muzio con tutte le membre irrigidite il suo viso giallo come la cera con gli occhi chiusi con le palpebre livide era rivolto al soffitto e non pareva che respirasse aveva l'aspetto di un cadavere ai suoi piedi anche gli avvolto in uno scialle rosso era inginocchiato il malese teneva nella mano sinistra il ramo di una pianta sconosciuta simile alla felce leggermente chinato in avanti guardava fissamente il padrone una piccola torcia fissata al suolo ardeva di una luce verdastra solo quella illuminava la stanza la fiamma non ondeggiava e non fumava il malese non si mosse quando entrò Fabio lo guardò soltanto di sfuggita e tornò a fissare Muzio ogni tanto alzava e abbassava il ramo lo agitava nell'aria e le sue labbra mute si aprivano e si muovevano lentamente come per pronunciare delle parole senza suono sul pavimento tra il malese e Muzio c'era il pugnale con il quale Fabio aveva colpito il suo amico il malese e diede un colpo con il ramo alla lama insanguinata passò un minuto un altro Fabio si avvicinò al malese e chinatosi su di lui chiese a mezza voce è morto è morto il malese piegò la testa dall'alto in basso e tirando fuori da sotto lo scialle la mano destra indicò imperiosamente la porta Fabio avrebbe voluto ripetere la sua domanda ma la mano imperiosa ripetè il gesto e Fabio se ne andò furioso e sconvolto ma obbediente trovò Valeria ancora addormentata con il volto ancora più tranquillo non si spogliò si sedette vicino alla finestra con il viso appoggiato sulla mano e di nuovo sprofondò nei suoi pensieri il sole che spuntava lo trovò nella stessa posizione Valeria non si era svegliata Fabio avrebbe voluto aspettare il suo risveglio e andare a Ferrara ma d'improvviso qualcuno bussò leggermente alla porta della camera da letto Fabio uscì e trovò davanti a sé Antonio il suo vecchio maggiordomo signore cominciò il vecchio il malese ci ha appena informato che il signor Muzio si è ammalato e vuole trasferirsi con tutti i suoi bagagli in città e perciò le chiede di dargli dei servi per aiutarlo a fare i bagagli e all'ora di pranzo di mandare dei cavalli da tiro e da sella e alcuni accompagnatori ho la sua autorizzazione il malese ti ha spiegato questo domandò Fabio in che maniera se è muto ecco signore la carta su cui ha scritto tutto questo nella nostra lingua è molto correttamente e tu dici che Muzio è malato sì molto malato e non lo si può vedere avete mandato a chiamare il medico no il malese non lo ha consentito è il malese che ti ha scritto questo sì Fabio restò in silenzio beh allora dai le disposizioni necessarie disse alla fine Antonio se ne andò Fabio seguì il suo servo con uno sguardo perplesso allora non è morto gli venne in mente non sapeva se rallegrarsene o rattristarsene malato ma se qualche ora fa io l'ho visto morto Fabio tornò da Valeria questa si svegliò e alzò la testa gli sposi si scambiarono un lungo significativo sguardo non c'è più disse all'improvviso Valeria Fabio sussultò come non c'è più è partito continuò lei Fabio tirò un sospiro non ancora parte oggi e io non lo vedrò più mai più mai più e quei sogni non si ripeteranno no Valeria fece un altro sospiro di sollievo un sorriso estasiato si apparve sulle sue labbra tese al marito entrambe le braccia e non parleremo mai di lui mai più mi ascolti mio caro e io non uscirò dalla mia stanza fin quando non se ne sarà andato e ora mandami le mie cameriere aspetta prendi questa indicò la collana di perle appoggiata sul comodino la collana che le aveva regalato Muzio e gettala subito nel più profondo dei nostri pozzi abbrazzami sono la tua Valeria e non tornare da me finché finché non sarà partito Fabio prese la collana le perle gli sembrarono più opache ed eseguì l'ordine della moglie poi cominciò a vagare per il giardino lanciando da lontano delle occhiate al padiglione intorno al quale era già cominciato l'andirivieni per i bagagli i servi portavano fuori i bauli caricavano i cavalli ma il malese non si vedeva un impulso irresistibile spinse Fabio a guardare ancora una volta quello che accadeva nel padiglione si ricordò che sulla facciata posteriore c'era una porta segreta attraverso la quale si poteva entrare all'interno della stanza dove quella mattina era sdraiato Muzio raggiunse furtivamente quella porta la trovò aperta e scostata la pesante tenda che la nascondeva lanciò uno sguardo esitante Muzio non era più disteso sul tappeto vestito in abito da viaggio era seduto in poltrona ma sembrava un cadavere proprio come quando Fabio era venuto la prima volta la testa pietrificata era riclinata sullo schienale della poltrona le mani tese erano appoggiate con il palmo all'ingiù gialle e inerti sulle ginocchia non dava segni di vita vicino alla poltrona sul pavimento tutto coperto di erbe secche c'erano alcune coppette con un liquido chiaro che emanava un odore forte e quasi soffocante l'odore del muschio intorno a ogni coppetta si contorceva gettando di tanto in tanto dei baglioni dagli occhi dorati un piccolo serpente color rame e proprio di fronte a Muzio a due passi da lui si ergeva la lunga figura del malese avvolto in una tunica valiopinta di broccato stretta alla cintura da una coda di tigre con in testa un cappello alto a forma di tiara con un corno ma non era immobile ora si inchinava con devozione e sembrava pregare ora si ergeva con tutta la sua figura si alzava perfino in punta di piedi ora alzava e abbassava ritmicamente le sue braccia aperte ora le tendeva insistentemente in direzione di Muzio come per minacciare e dare ordini aggrottava le sopraciglia e batteva i piedi per terra tutti questi movimenti evidentemente gli costavano una grande fatica e addirittura sofferenza aveva il respiro pesante il sudore grondava sul suo viso improvviso rimase immobile e dopo una forte ispirazione aggrottando la fronte con un grande sforzo tirò verso di sé le braccia contratte proprio come se tenesse delle briglie e con indescrivibile orrore di Fabio la testa di Muzio si staccò lentamente dallo schienale della porta e si mosse seguendo il movimento delle mani del malese il malese le lasciò ricadere e la testa di Muzio ricadde pesantemente all'indietro il malese ripetiva i suoi gesti e la testa docile li ripeteva il liquido cupo delle coppette cominciò a bollire le coppette stesse vibravano con un suono leggero e serpenti color rame cominciarono a ondeggiare intorno ad esse allora il malese fece un passo in avanti e alzando molto le sopracciglia e allargando al massimo gli occhi piegò la testa verso Muzio e le palpebre del morto fremettero si aprirono faticosamente lasciando intravedere le pupille opache come il piombo un'espressione di trionfo orgoglioso e di gioia una gioia quasi maligna illuminò il volto del malese e gli aprì la bocca e dal più profondo della gola emise con sforzo un ululato prolungato anche le labbra di Muzio si aprirono emettendo un debole lamento in risposta a quel suono disumano ma Fabio non poté sopportare di più gli sembrava di assistere a qualche rito demoniaco anche egli gridò e si mise a correre verso casa senza guardarsi indietro pregando e facendosi il segno della croce circa tre ore dopo Antonio venne ad avvertirlo che tutto era pronto tutti i bagagli erano stati sistemati e il signor Muzio stava per partire senza rispondere nulla al servitore Fabio andò in terrazza di lì si vedeva il padiglione alcuni cavalli da Soma erano raggruppati davanti alla porta proprio vicino all'ingresso era stato portato un possente puledro nero con un'ampia sella predisposta per i due cavalieri c'erano i servi con le teste scoperte e gli uomini della scorta armati la porta del padiglione si aprì e sostenuto dal malese che portava di nuovo i suoi vestiti abituali comparve Muzio il suo viso era cadaverico e le sue braccia pendevano rigide come quelle di un morto ma camminava sì camminava e seduto a cavallo si reggeva dritto e trovò le redini a tastoni il malese gli mise i piedi nelle staffe saltò sulla sella dietro di lui gli cinse con un braccio la vita e tutto il corteo si mosse i cavalli andavano al passo e quando girarono davanti alla casa a Fabio sembrò di vedere brillare nel viso scuro di Muzio due piccole macchie bianche possibile che avesse rivolto le pupille verso di lui solo il malese gli fece un inchino beffardo come sempre Veleria aveva visto tutto questo le imposte delle finestre erano chiuse ma forse lei stava dietro di esse allora di pranzo lei scese ed era molto dolce e affettuosa però si lamentava ancora di essere stanca ma non dava più segni di inquietudine né aveva quello stupore costante di prima o quella misteriosa paura e quando il giorno dopo la partenza di Muzio Fabio si rimise a lavorare al suo ritratto ritrovò nel suo viso quell'espressione pura e cui temporaneo fuscarsi lo aveva tanto turbato e il pennello corse di nuovo sulla tela leggero e sicuro gli sposi ripresero la vita di prima Muzio per loro era scomparso come se non fosse mai esistito Fabio e Valeria sia l'uno che l'altra erano d'accordo di non nominarlo di non dire nemmeno una parola su di lui di non informarsi sul suo destino che del resto rimase un mistero per tutti Muzio scomparve veramente come se fosse sprofondato sotto terra un giorno Fabio pensò che avrebbe dovuto raccontare a Valeria cosa era successo in quella notte fatale ma lei senza dubbio aveva indovinato la sua intenzione trattenna infatti il respiro socchiuse le palpebre come se aspettasse un colpo Fabio capì e non le diede quel colpo in una bella giornata autunnale Fabio finì il ritratto della sua Cecilia Valeria era seduta davanti all'organo e le sue dita correvano sui tasti improvvisamente malgrado la sua volontà sotto le sue dita risuonò quel canto dell'amor trionfante che un tempo aveva suonato Muzio e in quello stesso istante per la prima volta dopo il matrimonio ella sentì dentro di sé il fremito di una nuova vita che stava germogliando Valeria sussultò si fermò cosa significava questo forse che con queste parole terminava il manoscritto grazie a tutti